Mi sai come vai rispetto al giorno dell'andata? Questa è un'altra domanda con una risposta abbastanza difficile. Vorremmo fare meglio, sicuramente diventiamo più bravi quando c'è un clima importante per noi perché non è mai facile riuscire a esprimere le proprie potenzialità quando c'è un pizzico di scetticismo. Non chiediamo niente, sappiamo che dobbiamo fare meglio perché nel primo tempo abbiamo concesso il fianco agli avversari e abbiamo reagito nella ripresa e proveremo a fare meglio nella prossima partita.